Da segnalare un importante incendio che si è sviluppato nei monti di risola spagnola di Gran Canaria, in Spagna. Leva stati mille hectare circa di vegetazione, evacuate ben mille persone circa. Una situazione questa che ovviamente non è molto bella, non è molto piacevole da trasmettere. Sarebbero state minacciate in particolare le località di Tejeda, Atenara e Galdar. Decine di persone trasferite e messe in salvo, al sicuro le squadre dei vigili del fuoco si sono adoperate fin da subito per cercare di domare le ingenti fiamme. Per le ingenti, chiamiamole, fiamme, ripeto, l'incendio in questione. La vegetazione ovviamente ha avuto la peggio dove migliaia di ettari sono stati letteralmente bruciati, resi al suolo. Vi ringrazio per l'ascolto, sì è vero che la vegetazione a volte può ricrescere nel luogo dove si è verificato antecedentemente un incendio, ma non è sempre così che va a finire. Vi ringrazio per l'ascolto, ripeto nuovamente, vi ringrazio altresì per la relativa visione di questo video di oggi. Iscrivetevi se vi va, commentate e datemi le vostre opinioni. Saluti cari da Leandro, narratori da Rituale.